Grazie a tutti, buongiorno, intanto grazie a Remind, grazie al Presidente Crisafi per questo invito, per questa opportunità. Abbiamo accolto fin dall'inizio, io e anche altri Presidenti di gruppi, l'idea di spingere questa iniziativa perché è un confronto tra quello che è la politica, il mondo produttivo, il pubblico, il privato, può essere solo a beneficio di quello che è il futuro del nostro Paese, soprattutto con l'idea di avere una visione, come avete scritto giustamente voi, di medio-lungo termine, non sempre solo e esclusivamente occuparci di quelli che sono i problemi e le urgenze che tutti i giorni indubbiamente capitano nel nostro Paese. Quello che è un po' un limite della politica italiana è sempre stato quello di capire, di avere una visione, capacità di programmare, di guardare il futuro. Allora perché no, in un'ottica chiaramente per garantire il più possibile un futuro nel nostro Paese, perché no, non parlare del tema, io ho chiesto espressamente di poter dire questo, visto che poi ho sentito l'ultimo relatore e io ringrazio i relatori, illustri, ospiti che ci sono qua, professori, persone sicuramente molto più competenti di me che parlavano dell'acqua come un bene prezioso. Bene, allora parliamo di sicurezza e di energia, energetica, perché la forza di un Paese si misurerà nel tempo dalla sua capacità di avere un'autonomia da un punto di vista energetico. Oggi noi sentiamo molto parlare di fotovoltaico, energie rinnovabili, sentiamo parlare di eolico, però sentiamo poco parlare per esempio di idroelettrico, che è un'altra fonte importantissima, sentivo prima, noi costruiamo dighe. Ecco, l'idroelettrico, perché? Perché è una fonte rinnovabile programmabile, è una fonte rinnovabile che non ha bisogno di batterie, quindi questo è un altro elemento fondamentale e visto che insomma il territorio italiano è pieno comunque di fiumi, di laghi, insomma sfruttare al massimo questa potenzialità ci può dare la possibilità anche di creare quel rapporto pubblico privato, perché non so se voi avete seguito, io l'ho seguita con attenzione perché già ai tempi quando fece nel primo governo Conte la Lega dal governo e Giorgetti era sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, portiamo avanti la proposta di legge che consentiva alla fine, alla scadenza delle concessioni, delle grandi derivazioni idroelettriche, di poter far sì che la proprietà degli impianti andasse a livello regionale, quindi una sorta di federalismo, uso questo termine ovviamente energetico se vogliamo, se possiamo utilizzarlo, però cosa succede? A quel punto la regione può mettere a gara, oppure adesso stiamo lavorando per dare anche l'opportunità, l'alternativa di poter comunque fare una trattativa con l'ex concessionario, proprio per consentire che sui territori, dalla produzione di energia elettrica, possano arrivare dei benefici direttamente per i cittadini e questa è la vera innovazione che noi abbiamo portato avanti e che stiamo portando avanti. Sull'idroelettrico, dell'idroelettrico si parla poco, come si parla poco anche del nucleare, perché se vogliamo arrivare alla decarbonizzazione, al fatto di non utilizzare più queste centrali uniche del gas per garantire l'energia nel nostro paese e dobbiamo guardare anche ad aspetti che sono assolutamente differenti, aprire gli orizzonti, programmare, avere una visione. È chiaro che l'idroelettrico è una fonte su cui possiamo investire già da subito, abbiamo già di tantissime centrali, possiamo crearne delle altre, c'è anche il tema del microidroelettrico che può consentire di garantire energia. Dall'altra parte è chiaro che per programmare, per vedere e per parlare di nucleare, che tra l'altro è anche uno degli obiettivi che si sono dati lì proprio al convegno, alla chermessa internazionale di questi giorni, va proprio nella direzione di cominciare a far sì che lo Stato metta nelle condizioni i privati di poter cominciare ad investire. Questo è il tema. Quindi sull'idroelettrico piuttosto che sul nucleare il rapporto pubblico privato si stabilisce in questo modo, perché essere dipendenti a livello energetico come lo siamo noi oggi, prima lo eravamo nei confronti della Russia, adesso lo siamo nei confronti di Algeria, Qatar e altri paesi. Non possiamo mai sapere un domani che difficoltà a livello geopolitico internazionale, abbiamo visto adesso con la crisi del Medio Oriente, qualche rischio, qualche perplessità può venire anche dal fatto di essere passati dalla Russia ad una situazione esplosiva del Medio Oriente. Questo naturalmente ci deve far pensare che dobbiamo cominciare a essere noi autonomi da questo punto di vista. Per farlo abbiamo le strade e dall'altra parte magari anche, visto che bisogna uscire dalle ideologie e la strada futura è il mix energetico, cioè usare tutte le fonti che sono a disposizione. Il gas ne avremo bisogno ancora sicuramente per un po' di tempo. Anche da questo punto di vista l'Italia deve cominciare anche ad aumentare l'estrazione di gas sui propri territori, perché in certi casi noi abbiamo abbandonato questa strada anche lì a livello ideologico e poi abbiamo altri paesi che nel mare aperto sostanzialmente soffiano, portano via il gas a noi che potrebbe essere una fonte importante per dare sviluppo, per dare centralità all'economia di un paese. Guardate che se non investiamo su questa questione, si parla di sicurezza, il tema era nazione sicura. Ecco io mi sento, mi sentirei come cittadino, non come politico, di vivere in un'azione sicura se un domani sono certo che il nostro paese, che l'Italia abbia la sua autonomia da un punto di vista energetico, perché il futuro va lì, chi riuscirà ad avere questa autonomia sarà un passo avanti rispetto a chi ne sarà dipendente. E l'abbiamo visto su tanti aspetti, quante volte abbiamo detto ah però in Francia con le centrali nucleari i cittadini pagano bollette basse, invece in Italia noi paghiamo bollette stratosferiche. Io capisco, oggi poi c'è il nucleare, stiamo parlando nucleare di ultima generazione, non stiamo parlando del nucleare di tanti anni fa. Dobbiamo cominciare a entrare in quest'ottica, mi sembra che la gente comincia a capire, però questa sinergia che nell'idroelettrico è il rapporto pubblico privato, è una trattativa che può condurre a dei benefici per i territori. Sulla questione del nucleare invece la capacità che lo Stato metta a disposizione tutte le carte, tutti gli strumenti perché i privati possano investire, i privati che hanno voglia di investire, perché non dimentichiamoci questo, può essere veramente la soluzione che ci porta a un paese più sicuro, a un paese più moderno, a un paese che va oltre, come dice, io ci tengo a sottolinearlo, insomma non solo in Italia, in tutta l'Europa, perché poi qualcuno fa le polemiche in questi giorni, la Lega è per il rinascimento dell'Europa, sia ben chiaro, ma perché l'Europa possa rinascere c'è bisogno sì di dare spazio all'economia, c'è bisogno anche che l'Europa valorizzi gli investimenti, qui chiudo, perché se nel nuovo discorso del patto di stabilità gli investimenti anziché essere valorizzati soprattutto sul green, visto che stavamo parlando di livelli energetici, non vengono scomputati dal discorso del patto di stabilità, allora per un paese come l'Italia diventa difficilissimo essere competitivo e soprattutto l'economia dell'Europa diventa difficile che possa prendere spazio. Questa è insomma la strada che noi vogliamo percorrere, sulla quale ci battiamo tutti i giorni, poi ci riusciremo, non ci riusciremo, questa sarà la storia che lo dirà, però se non c'è l'impegno, non c'è la determinazione, non c'è la consapevolezza e non c'è anche la spinta dell'opinione pubblica, perché la politica senza la spinta dell'opinione pubblica tante volte può fare poco o nulla, abbiamo la necessità naturalmente di partecipare, di diffondere questo verbo che attraverso le vostre riunioni e che Remind fa costantemente, ecco perché un plauso a Remind proprio per il costante apporto che dà quotidianamente, che io Crisafi lo so questo costante apporto, mi manda otto messaggi al giorno, quindi indubbiamente sono a conoscenza di tutte le iniziative che si portano avanti, però è un modo anche per far sì che la politica resti sempre attenta alle esigenze reali del Paese, se no noi tendenzialmente abbiamo sempre un po' questo rispetto di distaccare un po' dalla realtà. Ecco, con Crisafi mi riporta sempre coi piedi per terra, quindi io di questo lo ringrazio e grazie a tutti voi per avermi ascoltato, buona giornata e buon lavoro.